Salve gente, vorrei condividere con voi un aneddoto che mi riguarda e che potrebbe farvi riflettere su quello che è il vostro rapporto con i risultati, sia vostri e soprattutto con i risultati delle altre persone. Tempo fa, i primi anni che mi allenavo in palestra, nella mia palestra veniva un ragazzo molto forte che spingeva tantissimo, soprattutto di panca. Questo ragazzo non è che aveva un grosso fisico, aveva un buon fisico ma non era particolarmente grosso, né era un powerlifter di professione, non era un agonista, però era fortissimo. Ed io ero, diciamo, genuinamente invidioso di questo ragazzo, non era un'invidia malvagia, maliziosa, era un'invidia sana, diciamo, che presumo gran parte dei ragazzi, soprattutto all'inizio, avrebbero nei confronti di qualcuno che è molto forte. Quindi una volta, colsi l'occasione negli spogliatoi per domandargli come mai fosse così forte, o piuttosto, se fosse così forte dall'inizio. E lui rispose, sì, i primi anni in cui mi allenavo, anche i primi giorni in cui mi allenavo, ero già fortissimo e spingevo oltre 120 kg di panca. Al che, voi direte, la tua invidia dovrebbe essersi amplificata. Cavolo, questo ragazzo era già fortissimo dall'inizio. E invece no, accadde l'esatto opposto. L'invidia sparì di colpo e mi sentì improvvisamente investito di un orgoglio inspiegabile apparentemente. Solo successivamente ho capito che l'orgoglio era giustificato dal fatto che questo ragazzo, in effetti, non si era conquistato questo grosso vantaggio, ovvero la forza, nella panca e negli altri esercizi, ma che lo aveva già di natura, era già, come dire, predisposto per essere forte. Io, dal mio canto, ero molto debole quando iniziai. Non riuscivo a caricare neanche 50 kg di panca. E, tutt'oggi, per quanto i miei massimali non siano esagerati, non è la cosa di cui vado più fiero, in effetti, però sono comunque dei buoni carichi. E ciò nonostante, se vedete, la mia struttura ossea non è delle migliori. Io ho un polso di 16 cm, ho una struttura ossea molto leggera, eppure ho messo su una massa muscolare non indifferente. Ora, perché quindi sono stato, come dire, la mia invidia è svanita? Perché mi sono reso conto che quello che io mi sono conquistato, per quanto io abbia comunque una buona genetica, lo devo in buona parte alla mia costanza, alla mia perseveranza, al mio duro lavoro, non tanto alla mia genetica. Mentre questo ragazzo era già forte quando è iniziato, quindi non era qualcosa di invidiabile, diciamo. Sì, è un grosso vantaggio, senz'altro, anzi, è il re dei vantaggi, quello di avere già la struttura adatta. Però non è una cosa che hai conquistato. Quindi non è una cosa... È come se io invidiassi qualcuno perché è più alto, nel senso di, guarda quello è più alto, che è bravo. Ecco, è come dire che è bravo, quel ragazzo è più alto di me. Non è più bravo, è semplicemente nato così. Ecco, è la stessa cosa, è lo stesso ragionamento. Si può essere invidiosi in quel senso lì, ma non è il senso di essere invidiosi del successo, dei risultati ottenuti, perché non sono risultati, è semplicemente così che è quella persona. Per cui, non siate invidiosi degli altri, a meno che i risultati degli altri non siano di fatto dovuti al loro lavoro, alla loro competenza tecnica, alla loro costanza. E non cadete nell'errore di cercare di disminuire la bravura, la costanza e l'impegno degli altri per annullare, per dissipare l'invidia che provate. Perché se l'invidia è appunto giustificata dall'impegno che quelle persone, che invidiate, che la persona che invidiate ha messo nei suoi risultati, nel raggiungimento dei suoi risultati, allora dovete continuare a essere invidiosi e dovete imitare tale impegno. Dovete adottarlo anche voi se davvero intendete emularlo, altrimenti non dite niente e allontanatevi da quel contesto, perché evidentemente non vi interessa quel contesto, se non volete fare quei sacrifici. Ebbene, questo è l'argomento del video, questo è quello che volevo dire e noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.